Turni pomeridiani raddoppiati e 12 ore di lavoro in più a settimana con l'obiettivo di ridurre di alcuni mesi i tempi di attesa per le mammografie. Da oggi l'ASL1 fa scattare alla radiologia del San Salvatore dell'Aquila il piano per ridurre drasticamente le attese per sottoporsi all'esame del seno. La strategia va dritta al sodo, far confluire una parte degli esami prenotati al CUP che vengono svolti al mattino durante il lavoro ordinario nella distinta e specifica attività di screening svolta nel pomeriggio, potenziandola con prestazioni aggiuntive di lavoro. L'agenda agganciata alle prenotazioni del CUP, infatti, spiega in una nota l'ASL, è composta sia da richieste di visire di protocollo per patologie al seno da cui si affetti, sia per prenotazioni per fini di prevenzione. Nello screening verranno inserite le donne che rispondono al requisito dell'età dai 50 ai 69 anni e che hanno fatto appunto la prenotazione nell'ottica della prevenzione. Con l'adozione di questo sistema, l'agenda degli appuntamenti presi dagli utenti allo sportello sarà più snella e di conseguenza le attese diventeranno molto più brevi. Lo screening per la mammografia verrà gradualmente esteso a tutte le aree della provincia tramite l'invio a casa di lettere di convocazione da parte dell'ASL 1. Le emissive vengono indirizzate a un campione di donne individuato in base all'età 50 ai 69 anni. Complessivamente, dai primi di luglio al 31 dicembre 2014, l'ASL ha già spedito 3.776 convocazioni a domicilio. L'obiettivo dell'azienda è quello di sottoporre ad accertamento al seno in tutto il territorio provinciale circa 40.000 donne entro due anni.